Ci sono alcune scene di film di Star Wars che sono state tradotte male nel doppiaggio e nell'adattamento. In particolare parlo di due scene di Una Nuova Speranza e mi sono chiesto come sarebbero state se non fossero state tradotte male nel doppiaggio. Dato che queste scene includono dialoghi di personaggi, nella prima scena ho dovuto solo togliere una parte della frase, ottenendo così un nuovo dialogo, mentre nella scena successiva ho dovuto ricreare completamente le voci dei due personaggi in questione tramite l'intelligenza artificiale e fargli dire delle frasi completamente nuove che vanno a correggere gli errori che erano stati commessi nel doppiaggio originale. Le frasi che sono state corrette sia della prima che della seconda scena sono contrassegnate da dei sottotitoli gialli. Detto questo lascio che vi godiate queste modifiche che ho fatto a queste due scene di Una Nuova Speranza. Buona visione! Guarda, erano droidi. Tu hai fatto le guerre dei cloni? Sì, una volta io ero un cavaliere Jedi come tuo padre. Vorrei averlo conosciuto. Era il miglior pilota stellare della galassia e un astuto guerriero.